Sentite un po', mi stavo ponendo questa domanda. Allora, come sapete, è ufficiale che la Supercoppa Italiana Juventus-Milan si giocherà a Jedda mercoledì 16 gennaio. Ma, dico io, non sarebbe stato meglio invece giocarla al 6, visto che non ci sono partite di nessun tipo quel giorno? Non c'è la Serie A, non c'è la Champions, non c'è l'Europa League, non c'è la Coppa Italia e non c'è nemmeno la sosta nazionale. Quindi, quando invece al giorno 16 significa giocare prima la partita di Coppa Italia del turno, che la precede, e poi subito dopo partire per Jedda con l'aereo e metterti dopo quattro giorni a giocare la Supercoppa, non mi sembra una cosa molto logica, a mio modo di pensare. Se la giocavi al 6 era molto meglio, perché avevi uno spazio completamente libero per quella partita. Non so che ne pensate voi, ma questo è il mio pensiero. Poi, che voi possiate condividerlo o no, a fare vostro, ma io vedo le cose in questo modo. Poi voi potete pensare tutto quello che volete.